Io ci proverei lo stesso, vuoi? Che comincia? Tu. Ah, e perché io? Perché sei l'uomo. Ah, è l'uomo, eh già, comodo, l'uomo, eh. Allora, come cominciò? Eh, guarda, cominciò là. Avevi il volto più candido che avessi mai visto, gli occhi innocenti, sorpresi, e nello stesso tempo una sensualità che mi arrivò subito al cervello. Grazie a tutti. Come riuscimmo ad isolarci? È tutto dire, in mezzo a quel casino di gente. A proposito, ma chi erano? E chi lo sa, amici di corso. Pensare che questa casa mio padre me l'aveva data per liberarmi, diceva lui, da mia madre e dalla sua possessività. E capirei, diventò subito un porto di mare. Che primo bacio. Primo bacio nostro. Perché per te non era neanche il secondo. Cosa vuol dire? Se è per questo, per me non era neppure il quarto. Se è per quello, neanche il ventesimo, eh. Allora... Allora...